E dal Production Is Resparsa Renato De Paoli, oggi venerdì 23 agosto 2013, seconda testimonianza del libro di Francesca Le Noti delle Mondine che andava a lavorare in Piemonte a proposito del fidanzamento e dei problemi sessuali, magari era tanta miseria qua, allora si facevano il cinema, abbalavano al nostro paese, e il teatro è del prete, non c'erano altri perché avevano i schei, per andare a ballare, eravamo a fare proprio sfegate di ballare, per il cinema un po', cosa facciamo? Sulla porta c'erano due persone che rompevano e tagliavano i biglietti, e se di sene tra lo andre, boh, se di sene, ciò vole ne andarvi a ballare, se voli che vi palpa le tete, se voli che vi palpa le ciappe andè drento, insomma ne davano a passadina e via drento, adesso quando lo conto a me marì e dice bisogna avere poca testa ma i soldi non genera cosa viene da fare e fa bene che le robe non convergono niente di dirlo